E' partito E' partito E' partito Perché volevo fottermi subito la prima kill Gattone, attenzione No, ma è punto di controllo ti ricordo Quindi accanna la prima kill Anche se non mi dispiace farmela Ma anche la seconda, già che ci sono, sai Oh, ce ne sono altri, la terza Oddio, non mi dire che faccio anche la quarta Perché sarebbe bellissimo Ecco anche la quarta, no, era un bot La quarta, la quarta, no, un altro bot La quarta, la quarta, no Sì, la quarta, e vieni Vi ha fatto fare tutte e due, va bene Occhio che attirano granate Tirano granate dentro C'è l'hai dietro, c'è un cecchino dietro Bravo E' la devasto Entrano sempre da qua, e lo vedi che entrano da qua, sì No, io sto su B Bravo, 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 io e Rina siamo qua Dai, tu Rina stai spingendo Ai versanti se la sta vedendo con i bot Chi è che sta No, attento, attento, c'è il Moome che sta con la smart Avrà la peggio sicuramente che con i bot Ehi, tira granate Io me ne vado a prenderci allora, o almeno ci provo Abbiamo preso Alba Il Moome sta andando appunto su C Ok, stai avvicinando a Charlie, occhio ai nemici Occhio alla shotgun in C Ecco, la m'ha preso Vai in C, vai in C, vai in C che deve essere nostro Dovrebbero tornare in C adesso i ragazzi Oh, conti giù Ok, tra poco in C non ci saranno più problemi Ovvero adesso Sta fermo, sta fermo Venite a prendere B Venite a prendere B Dai, venite a prendere C Oh, hanno preso la torretta E io me faccio una doppietta Hanno preso la torretta Io me faccio una doppietta, è buona Nemici in avvicinamento Per fortuna è solo un Titan Out C'ho uno sopra, uno sopra Ok, la risolvo così Però il mio Titan non c'è più Avrò ammazzato il millicino Che cattiveria Stanno su Alpha Eh, pure su C vedo un Titanino io, eh Eh, ce ne restano tre su Alpha Non ho visto arrivare un Alpha Per fortuna che non pensa nei punti Ma fa così Eh, tripla minaccia in C Occhio alla tripla minaccia in C La dà fazzito da sopra, va Oh, c'è ne un altro Dai, ma no Ok, ti stai avvicinando a Charlie Occhio inizio Ah, vanno sempre in due Maledetti Gli archi Pronto Vieni un po' qua Vieni un po' qua, ragazzuolo Vieni qua, Mr. Immune Dimmi, che c'è? Che c'è? Ma che cazzo mi chiamano? Non ho capito Ma cosa Yoshi zedro? Ma che stai a dire Yoshi? Non so, mi chiama così Ma non sono io che chiamarti E vado da quel paese lì Ritorno in Lombardia Chi è che fa prendere B o A? Vado io Vado io Visto che io da C non mi posso muovere Vai Yoshi che tono martello da qua su Tiralo fuori Tiralo fuori No, sì No, sì Abbiamo perso pure Bravo Non va bene Eh no Oh, ma che cazzo Siamo bravo Darvi supporto? No Ok, datemi beta E sono a posto Ma non è meglio di prima Ben fatto squadra Continuate così Sì Siamo a giudicare Ehm Ma in C c'è un titanaccio con la gripe alla minaccia Vediamo un po' che succede Vado vengo io su G Prego dall'altro lato Sì Bello E' bello che è fatto quello in C Arrivo un altro auto Sì 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 Sta torretta chi l'ha presa? Sarebbe da ammazzarlo solo perchè ha preso Oh c'è un pilota dietro Che cazzo è? No è la torretta O distruggete un po' la torretta voi che c'avete il titan Si Poi ti invito Qualcun Quel pilota lo c'ha? In C cazzo Ah Guarda dai camperato insieme Il punto di controllo, bravo, sta accedendo, bisogna intervenire mannaggia occhio al camperone guarda tu sta camperato quello in cio invio mo sa tu sta però oddio qualche ora muori bello muori anche tu bello grazie grazie del supporto voglio libero è bravi bravi stacce nemici nelle vicinanze ragazzi occhio è vero non mi fa ammazzata sto tylan e ti prego per assicurarmi che i numeri corrispondano ucciso dove atterrerà è vero tu stai la sopra occhio c'è un altro tylan dietro occhio no yoshi no yoshi no no yoshi se ne vanno se ne vanno sparate sparate due e che sparava non gliela faccia con 40 mm l'abbiamo fatti scappare